Nella pubblica amministrazione è in arrivo una rivoluzione gentile, dice il ministro Brunetta, che parla dopo il Via Libera del DL reclutamento. L'intervista è di Francesco Di Mario. Ministro, con le misure della nuova legge la pubblica amministrazione riuscirà ad attuare nei tempi previsti il piano di ripresa e resilienza? Io, nei prossimi giorni, cercherò di fare questo, attuare la legge e farlo vedere, farlo capire, farlo percepire agli italiani, eliminare la carta, eliminare i documenti, i certificati, basta. Abbiamo riformato i concorsi, oggi i concorsi si fanno in tre mesi, altro che quattro anni, sono tutti digitali e sarà un mondo che cambia, che cambia in maniera gentile. Io l'ho chiamato a questa una rivoluzione gentile. Quindi questa sarà anche l'occasione per avere più giovani e più competenze digitali nella PIA? Ecco, questo è il mio sogno, quindi migliorare la qualità della vita, del lavoro di chi già c'è e soprattutto cercare i nuovi, tra i giovani, formati, preparati, ce ne sono tantissimi, di bravi, il merito, privilegiare il merito. Dobbiamo aspettarci grandi novità a partire da settembre. Anche dagli inti di agosto, perché partirà il portale del reclutamento, mandateci tutti i vostri curricula, perché con i vostri curricula vi chiameremo per contribuire a realizzare il piano europeo. Grazie a tutti.